Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale La polizia di Fanno ferma tre ladri di biciclette mentre a Urbino sono stati denunciati 19 ragazzi che si divertivano a ribaltare cassonetti Sorpassi azzardati e perdita di controllo dei veicoli diversi gli incidenti in meno di 24 ore a Macerata coinvolto ma illeso il cardinale Menichelli L'ufficio scolastico delle Marche non autorizza la sete di staccata del Cecchi a Fanno dura la reazione del vicepresidente Minardi Dopo Caronte è arrivato Lucifero con temperature fino a 40 gradi ecco i consigli dell'esperto per difendersi dal caldo Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Questa sera apriamo il nostro telegiornale con un'ampia pagina di cronaca e cominciamo con la polizia di Fanno che ha arrestato in flagranza di reato tre ladri di biciclette Uno di questi mezzi ha due ruote e si trova ancora in commissariato e dunque si cerca il legittimo proprietario Rubano una bicicletta elettrica a Pesaro e dopo nemmeno mezz'ora dal furto sono stati braccati e arrestati dagli agenti della volante del commissariato fanese che li ha intercettati a bordo del loro furgone e bloccati nella rotonda di Viale Buozzi a Fanno Due italiani di Torre Annunziata di 39 e 37 anni sono stati processati per direttissima nella tarda mattinata di oggi con l'accusa di furto aggravato in flagranza di reato I due napoletani già noti alle forze dell'ordine all'una della scorsa notte dopo aver tagliato con una tronchesa la catena che la proteggeva hanno rubato una bici elettrica del valore di oltre 1000 euro in Viale della Vittoria a Pesaro e dopo averla caricata su di un furgone bianco si sono diretti sulla nazionale in direzione di Fanno La proprietaria della bicicletta si è accorta del furto ed ha avvisato il 113 fornendo una precisa descrizione della bicicletta e del furgone cosa che ha permesso agli agenti una volta bloccati i ladri di non avere alcun dubbio sulla rifurtiva e quindi non hanno avuto alcuna esitazione nell'arrestare i due che si trovavano anche in compagnia di un minore un 17enne di origini rumene All'interno del furgone sono stati ritrovati arnesi da scasso, alcune tronchesi ed un cartello con scritto vendesi probabilmente per camuffare i furti oltre ad un'altra bicicletta da donna rubata probabilmente nel fanese Dopo il fermo dei tre la bicicletta elettrica è stata restituita alla legittima proprietaria mentre si cerca il proprietario o la proprietaria della seconda bici rubata che magari attraverso le immagini di Fanno TV potrebbe riconoscerla e identificarla Convalidato l'arresto da parte del giudice questa mattina e i due napoletani che hanno patteggiato la pena sono stati condannati ad un anno e quattro mesi di carcere oltre ad un'ammenda di 400 euro ed il divieto di dimora in provincia di Pesaro I carabinieri di Fanno invece sono intervenuti la notte scorsa intorno alle due al bar Bella Vista a Lido di Fanno Infatti alcune persone hanno segnalato alla centrale operativa la presenza di un soggetto che in preda ai fumi dell'alcol infastidiva i clienti del bar della zona e anche ai passanti con frasi irriguardose con approcci maneschi Grazie ad una precisa descrizione l'uomo è stato avvistato vicino al ristorante Sambuga dove aveva danneggiato la porta d'ingresso e urlato frasi sconnesse al gestore del locale ritenuto colpevole del fatto che non gli aveva voluto somministrare alcolici L'uomo, un cittadino svizzero in vacanza Fanno con il figlio di Ciottenne alloggiava in un albergo della zona dove i militari lo hanno riaccompagnato per ritirare i suoi documenti Poi, prima ancora che i carabinieri si allontanassero dall'albergo l'uomo è uscito di nuovo per dirigersi verso il centro città Una volta raggiunto ha reagito in modo violento compendo il capo pattuglia che ha anche riportato lesioni alla mano destra Dopo averlo immobilizzato lo hanno arrestato per i reatti di violenza e resistenza pubblico ufficiale Questa mattina poi il tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto L'uomo ha patteggiato una pena di quattro mesi di reclusione E lo avete sentito dai nostri titoli Diversi incidenti stradali si sono verificati tra la serata di ieri e oggi Questa mattina dopo un sorpasso azzardato un'auto si è ribaltata in via Canale Albani Ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Lino Balestra Sembrerebbe un sorpasso finito male alla base dell'incidente che questa mattina poco dopo le 7.30 ha causato il cappottamento di una Smart ed il coinvolgimento di un'altra auto in viale Canale Albani a Fano Alla guida della piccola utilitaria un giovane senegalese che dopo il sorpasso di una Volkswagen ha tentato di rientrare a destra ma probabilmente un errore di calcolo l'eccessiva velocità gli sono stati fatali e il giovane è finito ruote all'aria creando un po' di trambusto e qualche problema la circolazione che in quell'ora e in quel punto di Fano risulta essere particolarmente intensa Sul posto il personale del 118 che ha trasportato al Santa Croce di Fano il senegalese per accertamenti che nell'incidente, secondo le prime valutazioni avrebbe riportato solo alcune contusioni ed una squadra dei vigili del fuoco per la bonifica dell'area ed una pattuglia della Polizia Municipale di Fano per i rilievi di legge e regolamentare il traffico E un altro incidente autonomo si è verificato ieri sera intorno alle 23 in via 9 a strada Bellocchi di Fano per cause ancora in corso di accertamento una 29enne di origini sudamericane alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare contro il muro di cinta di un'abitazione La ragazza che nell'incidente ha riportato vari traumi di lieve entità è stata trasportata all'ospedale Santa Croce dai sanitari del 118 Sul posto anche i vigili del fuoco per la bonifica dell'aria e i carabinieri per i rilievi di legge Lo scontro invece che si è tenuto oggi pomeriggio in via Flaminia a Lucrezia nell'intersezione con via Sant'Anne è ancora al vaglio della polizia locale di Cartoceto nell'incidente sono rimasti coinvolti un'auto e uno scooter ma la dinamica è ancora da accertare sul posto è intervenuto anche il 118 che ha trasportato una donna di Cartoceto al pronto soccorso per accertamenti E ancora tanto spavento ma per fortuna nessuna lesione per il cardinale Edoardo Menichelli vescovo uscente di Ancona Osimo e per il suo autista Roberto Peccetti di 78 anni di macerata coinvolti ieri sera in un incidente stradale che si è verificato intorno alle 22.30 sulla statale 361 San Severino Macerata L'auto del cardinale, una Nissan Qashqai proveniente da Roma e diretta ad Ancona giunta all'altezza dell'abitato di Santa Maria in Selva in comune di Treia ha incrociato un'auto con i fari abbaglianti alzati che hanno momentaneamente accecato l'autista la Nissan ha sbandato e forse urtando un paracarro si è ribaltata rimanendo in bilico su una fiancata è stato dato subito l'allarme da automobilisti di passaggio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco i carbinieri sanitari del 118 per il cardinale e il suo autista non è stato necessario il ricovero al pronto soccorso che peraltro hanno rifiutato preferendo di proseguire il loro viaggio per Ancona Cambiamo argomento perché l'eccezionale ondata di caldo che sta infiammando l'Italia porta con sé anche possibili rischi per la salute noi oggi abbiamo sentito un esperto il dottor Frausini direttore del Dipartimento di Medicina Interna degli ospedali riuniti Marche Nord sentiamo Il grande caldo impone atteggiamenti e precauzioni che sono utili per evitare il ricorso al pronto soccorso è un'emergenza caldo che interessa tutta la popolazione ma soprattutto le fasce estreme i bambini piccoli e le persone anziane perché c'è un problema di termodispersione per cui si tratta di reintegrare quei liquidi che noi perdiamo normalmente per queste temperature elevate e deve essere reintegrati in maniera costante al di là dello stimolo della sete si devono bere quel litro e mezzo, due litri di acqua nonostante le persone anziane possano non avere ben presente questo stimolo della sete la disidratazione è un problema enorme Quali sono quindi le precauzioni da tenere durante la giornata? Bisognebbe evitare di uscire durante l'orario caldo e noi sappiamo che c'è una temperatura minima e una temperatura massima stiamo registrando proprio questi giorni delle temperature minime piuttosto elevate fino a 26 gradi dove si sente del malessere anche notturno non si riesce a recuperare durante la notte e di giorno le temperature elevate fanno percepire poi con l'umidità una temperatura ancora superiore bisognerebbe evitare di uscire gli anziani soprattutto e chi può negli orari un po' più caldi vestire in maniera adeguata vestiti leggeri possibilmente chiari ma soprattutto ribadisco il fatto di bere evitare la disidratazione Gli sbalzi di temperatura e l'aria condizionata possono comprimettere le condizioni fisiche? Ormai l'aria condizionata è una cosa che hanno molte persone è una cosa piacevole chi entra in un ambiente condizionato prova un senso di benessere ma lo sbalzo di temperatura è pericoloso tanto che si dice che l'aria condizionata vada regolata in maniera intelligente alcuni gradi al di sotto che sono le temperature esterne lo sbalzo può provocare tutta una serie di disturbi a livello dell'apparato respiratorio poi sudorazioni malesseri che vanno evitati L'alimentazione invece può darci una mano per contrastare questo periodo di siccità? L'alimentazione serve per reidratare per cui bisogna dare spazio soprattutto a frutta e verdura che contengono sali minerali che noi perdiamo con la sudorazione e contengono soprattutto liquidi che vanno a reintegrare il patrimonio idrico che noi dobbiamo assolutamente mantenere perché se perdiamo il patrimonio idrico perdiamo gli elettroliti gli elettroliti sono degli elementi fondamentali per il funzionamento di tutte le cellule una cosa che viene pensato un elettroliti non ben regolati possono provocare eritmie e tutta una serie di patologie che vanno assolutamente evitate La sezione di staccata a Fano dell'Istituto Cecchi di Pesaro non è stata autorizzata dall'Ufficio Scolastico Regionale nonostante la Giunta delle Marche abbia espresso la volontà chiara e netta dell'apertura nella città della fortuna dell'Istituto Tecnico e Professionale Agrario Durante la reazione dura invece la reazione del Vice Presidente dell'Assemblea Legislativa Renato Claudio Minardi che ieri in Consiglio ha ottenuto la risposta alla sua interrogazione riguardante i ritardi nell'applicazione del piano di dimensionamento scolastico è grave ha detto Minardi perché la programmazione dell'offerta formativa spetta alla Regione e di conseguenza al MIUR di darne attuazione Il tema del Cecchi è aperto da tempo poiché una sede a Fano indiscusso Pol Agrario avrebbe risposto adeguatamente ai bisogni degli studenti del territorio a partire da quelli che risiedono nelle valli del Metauro e del Cesano ma anche dal punto di vista formativo e logistico La risposta all'interrogazione di Minardi è arrivata in consiglio dall'assessore regionale all'istruzione Loretta Bravi L'ufficio scolastico regionale ci ha dato picche spiega l'assessore perché ha assunto la decisione di non autorizzare la sede distaccata per carenza di iscrizioni Devo ammettere ha invece concluso Minardi che la burocrazia ha sovrastato la volontà politica della Regione e questo è inaccettabile Rimaniamo a Fano perché a Sassonia non solo è stato riposizionato il monumento alla marineria ma nei giorni scorsi sono state installate anche delle panchine di legno Era da tempo che questa brutta pagina di vandalismo urbano doveva essere chiusa Facciamo un passo indietro i soliti idioti durante la notte di Capodanno avevano pensato bene di festeggiare il nuovo anno all'insegna della stupidità danneggiando irrimediabilmente il monumento che ricorda l'opera dei Calafà i maestri da Schaffanesi uno scheletro di barca da pesca su due basamenti in pietra Da alcuni giorni l'opera è stata riposizionata e riportata al suo originario splendore dalle ditta regresso Procivitate con un costo per la comunità di oltre 6.000 euro Abbiamo avuto qualche problema perché ovviamente mentre quando era rotta si poteva trasportare senza difficoltà e per ritornare appunto a Sassonia abbiamo dovuto organizzare un trasporto eccezionale in quanto la barca è appena più grande rispetto alle norme consentite dal codice della strada e quindi anche così anche ho spiegato un po' il ritardo che abbiamo avuto nella riallocazione Adesso è bello ritorna allo suo splendore iniziale e speriamo che insomma non sia più oggetto di atti vandalici che l'avevano in un certo senso rovinato Ecco la passeggiata qui della Sassonia sta ricevendo alcuni interventi di riordine di ripristino non ultime le panchine anche Abbiamo rimesso a posto il movimento ma abbiamo anche rimesso a posto quelle piazzole che erano state pensate negli anni 80 come luogo di ritrovo dove la gente potesse anche chiacchierare le abbiamo sistemate abbiamo rimesso i nuovi arredi che pensiamo possano essere anche più durature dei vecchi in quanto abbiamo sostituito il legno con del cemento che è anche gradevole all'occhio ma comunque anche molto più resistente e quindi stiamo facendo passo dopo passo in una programmazione che ovviamente è necessariamente pluriannale un lavoro di riqualificazione della passeggiata di Sassonia ed è stata approvata in Senato nell'ottava commissione la proposta di legge sulle ferrovie turistiche che comprende la tratta Fan Urbino lo fa sapere in un comunicato il consigliere pentastellato delle Marche Pier Giorgio Fabri ora più che mai scrive in una nota la sottoscrizione del protocollo proposto dal consigliere regionale PD Biancani sulla realizzazione di una pista ciclabile nella fascia di pertinenza della ferrovia non ha più senso a questo punto prosegue Fabri occorre che il comune di Fano ripristini il tratto distrutto di 30 metri di binario in zona Codma rendendo molto problematico il ripristino ferroviario visto che invece di approfondire la posa dei servizi di telefonia acquedotto e fognatura si è preferito innalzare la bretella in costruzione fino ad oltre un metro sopra i binari fra l'altro conclude il consigliere dalla montare previsto per i lavori compensativi della terza corsia della 14 sono avanzati circa 20 milioni di euro e parte di questa cifra potrebbe essere destinata per un sottopasso appunto sotto i binari domani sera alle ore 22 si chiudono le prenotazioni per partecipare all'evento Summer Night in Black and White la festa di mezza estate con i colori bianco e nero che si svolgerà sabato sera alla Palazzina Sabatelli potete contattare poi il numero che fra poco vedrete in sovraimpressione eccolo di Luciano Cecchini ideatore e direttore artistico dell'evento e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale fra poco trasmetteremo una nuova puntata di box poi in cucina con lo chef e a seguire uno speciale televisivo sulla conferenza stampa di presentazione dell'ottava edizione di Borgo in festa l'evento che si terrà da domani a domenica a ripalta di Cartoceto grazie per la vostra attenzione e arrivederci a domani grazie a tutti